Che rega le parole terribili su locus chiste. Questa frase della carlatina, che significa questo loco incute di timore, incute di rispetto, è una frase tipica dei luoghi che conservano degli oggetti particolari oppure che siano dei luoghi religiosi importantissimi per la zona. Faccio un esempio per dimostrare questa, secondo la leggenda, per dimostrare questa tesi anche la chiesa di Santa Maddalena Rennes-le-Chateau rega questa scritta, oltre alla chiesa di Santa Margherita Sardegliano, rega questa scritta di quindi terribili su locus chiste perché molto probabilmente, secondo la leggenda, conserva l'importante legge del Sacro Carlo, cioè il calice di macena. Il famoso calice di macena. E quindi questa scritta è presente nei luoghi particolarmente importanti o che conservino oggetti particolarmente importanti oppure che siano dei luoghi importanti di per sé nella zona.